Sì, perché è impossibile leccarsi la punta dei gomiti? Dentro c'è il segreto dell'immortalità. Se uno riuscisse a leccarli potrebbe poi vivere per sempre. E se tutti riuscissero a leccarsi la punta dei gomiti, allora sì che sarebbe il caos, no? Perché non è che si può andare avanti a vivere, vivere e vivere così all'infinito. È che mi sono appena lasciato ed era una storia seria, quindi ecco. Sì, no, era giusto per fare due chiacchiere? Ovvio. Giusto due chiacchiere? Certo, lo so. Comunque lo stesso. Mi chiamo Orlando. Mariana. No lo stesso. No lo stesso. No lo stesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.